tra le altre cose Pazzesco ragazzi, pazzesco. Ha messo la palla all'incrocio dei palli. Guarda dove gira questa palla. Guarda lì. E farli prima. O mi sembrava più lontano delle altre. Sì, ma la tua lettura, la mia lettura, la lettura di tutti questi 99.000 non può essere quella di Messi. Capisci che il destino di certi giocatori, di certe figure nel calcio è più alto di tutta la nostra comprensione. Senti il rumore. Guarda dove ha messo la palla questo alieno. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti